Musica E' l'attice del momento, quella che è stata già definita la nuova Sofia Loren. Si chiama Margaret Made, il suo vero cognome è Maccaroni e non tutti sanno che le sue origini sono di Adrano. Margaret Maccaroni è nata a Paternò il 22 giugno del 1982 ma ha vissuto da bambina ad Adrano. Di Adrano è infatti il padre proprietario di una rivendita di tabacchi. Margaret è la protagonista di Badia, l'ultimo film di Peppuccio Tornatore, un film molto atteso che è stato presentato con grande successo nei giorni scorsi a Venezia alla mostra del cinema. Il 2 settembre Margaret è stata la più ammirata e la più fotografata, mentre sfilava sul tappeto rosso a Venezia con il suo regista Tornatore e Francesco Scianna, il suo partner nel film e gli altri attori. Per lei una carriera in piena scesa da sconosciuta star da Adrano a Pachino a Milano a Venezia. E lei a parlare in questi giorni nelle tante interviste rilasciate sui giornali, parla di essere cresciuta a Pachino in provincia di Siracusa, racconta dei suoi genitori che si erano separati e che poi ha vissuto a Pachino con la madre infermiera e con la nonna. Ad Adrano, come detto, vive il padre di Margaret. L'attrice siciliana, però ormai da circa dieci anni, vive a Milano. «Ho lasciato Pachino perché mi stava stretta», dice in una intervista. «Ho studiato ragioneria, ma intanto lavoravo. Fare la modella mi ha permesso di viaggiare, ma l'ho sempre considerato uno scarino per arrivare al cinema». Adrano dunque con Pachino divide, diciamo, la soddisfazione e l'orgoglio per una ragazza oggi al centro dell'attenzione del mondo del cinema, una ragazza semplice dalla bellezza mediterranea che è stata già catturata dal mondo del cinema, che ha già riservato per lei un futuro da diva.